Alla fine tutto quello che insegno, quindi la comunicazione che si ha nella relazione uomo-donna, sia nella vendita, nel public speaking, in qualsiasi situazione, si può ridurre a due paroline che sono intelligenza sociale. L'intelligenza sociale è quella capacità di entrare in una stanza, in un istante, capire quali sono le relazioni fra le persone, ad esempio chi ci sta provando con chi, soprattutto se ci sta riuscendo sta prendendo il 2 di picche, il palo come si chiama. Oppure quali sono le coppie, quali sono gli amici, anche se magari sono a grande distanza fra di loro, uno da una parte e uno dall'altra della stanza, ma da come si guardano, da qual è la loro comunicazione non verbale, sono cose che alcuni hanno innate, ma che ovviamente si possono imparare. Questo ci fa capire che fra le persone si crea come un tessuto e se noi prendiamo la nostra comunicazione e la lanciamo su questo tessuto, come se fosse una biglia d'acciaio, questo tessuto è elastico e ce la rimanda indietro, quindi la nostra comunicazione è inefficace. Al contrario, se noi rendiamo la nostra comunicazione un liquido e versiamo questo liquido su questo tessuto immaginario, la nostra comunicazione riuscirà a permeare nelle relazioni fra le persone e essere molto più efficace. Questo vuol dire che la comunicazione deve essere malleabile, noi non possiamo comunicare ogni volta con tutti nello stesso modo, ma per avere intelligenza sociale serve un altro tipo di intelligenza, che è l'intelligenza emotiva. Sì, lo so che sembra la canzoncina per fare il tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, però è così. L'intelligenza emotiva è la capacità di empatizzare con gli altri, capire le emozioni che vivono, senza però farsi sopraffare da queste emozioni. Quindi, intelligenza emotiva ci permette di capire le emozioni degli altri, questo ci consente di comprendere le relazioni che ci sono fra le persone e in base alle relazioni che ci sono fra le persone, noi setteremo la nostra comunicazione con tutte poi le tecniche che potete vedere nei video o imparare in mille altri modi. Come mi insegnò un mio grande maestro, non c'è cosa più ingiusta che comunicare con tutti nello stesso modo.